Sulla base dell'attuale ritmo dei cambiamenti climatici con l'innalzamento del livello del mare, entro la fine del secolo potrebbe sparire la metà delle spiagge di tutto il mondo, molte delle quali si trovano in aree popolate. A lanciare l'allarme un articolo pubblicato su Nature Climate Change, da cui emerge in particolare che le spiagge australiane saranno le più colpite con quasi 12.000 km a rischio, seguono Canada, Cile, Messico, Cina e Stati Uniti. Già oggi, infatti, buona parte delle coste del mondo è stata divorata e una mitigazione moderata delle emissioni gas effetto serra potrebbe impedire il 40% del ritiro delle coste. Lo studio è stato condotto su un database di immagini satellitari che mostrano i cambiamenti del litorale dal 1984 al 2015. I ricercatori hanno estrapolato le tendenze storiche per prevedere le future dinamiche della costa in due diversi scenari di cambiamento climatico, quello ambientale provocato da fattori fisici e dalla ritirata del litorale a causa dell'innalzamento del livello del mare, quello dell'erosione causata dalle tempeste che può cambiare a causa dei cambiamenti climatici e quale impatto possa avere sulle coste. Secondo queste analisi, circa il 50% delle spiagge sabbiose del mondo sono a rischio di grave erosione, rischio particolarmente elevato in alcuni paesi per entrambi gli scenari climatici tra cui Gambia, Guinea e Abissau dove si potrebbe perdere oltre il 60% della costa sabbiosa.